Il primo passo verso un sistema di bigliettazione digitalizzata che consentirà un facile e accessibile utilizzo a tutti i servizi di mobilità che Amat offre ai cittadini in aggiunta naturalmente al trasporto pubblico locale. Non ha dubbi il presidente Michele Cimino con questo primo step oltre ad attivare sull'intera flotta di bus e tram i biglietti magnetici sono stati attivati anche i biglietti elettronici che attualmente sono disponibili sull'app Palermobilita e nei prossimi mesi saranno disponibili anche sulle altre app che al momento consentono l'acquisto dei titoli della sola sosta tariffata. Per Amat il prossimo step che si intende perseguire sarà la digitalizzazione degli abbonamenti che potranno essere richiesti oppure rinnovati online. Da qui la digitalizzazione e l'integrazione dei prodotti del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile car e bike sharing per il rafforzamento di tutti i servizi di mobilità in ambito cittadino. Le app sono scaricabili su smartphone malgrado il difficile momento dovuto alla pandemia, aggiunge il presidente Cimino, è sempre costante l'impegno del management di tutte le strutture aziendali finalizzato a realizzare una mobilità urbana sempre più al passo con l'innovazione più efficiente e più vicina ai cittadini.